Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Valle. Oggi vi voglio fare un video per condividere il nuovo materiale che mi ha mandato Roberto di modamerceria.it perché come vi avevo anticipato in un video che non mi ricordo quale, aveva ordinato dei nuovi materiali per fare le borse e ora è disponibile sul sito anche tutti questi materiali che ha mandato a me. Volevo aprire la scatola insieme a voi ma era troppo grande e quindi non ci stava l'inquadratura quindi preferisco farvi vedere una cosa per volta. Allora per prima cosa vi faccio vedere questa fettuccia, è una fettuccia non elasticizzata ed è insieme a un kit che è questo e questo è per fare una porta gomitolo che vedete qua l'immagine. Questi qui sono in legno e farò questo porta gomitolo. poi ho scelto questa patella con i manici, due manici, insieme a questo cotone, questo cotone che è proprio un cotone, non è un cotone, non è un cotone come di solito ho usato come il tie slim, no è un altro cordino, è in cotone, 100% cotone e poi farò una borsa intonata, vedete insieme a questo ho preso anche la patella dello stesso colore per fare una borsa. Poi ho preso quest'altro kit, anche questo per fare una borsa, qui ci sono i laterali e ho pensato di fare un bauletto, questo sarà la patella che andrà il bauletto con il manico e abbinerò questo sempre cotone qua. Poi dopo vi metto comunque tutti i link nell'info box e poi ho scelto i miei punti. Ho preso le chiusure, queste chiusure qua, ne ho prese due, i ponticelli, i moschettoni, che ne ho presi due, adesso vedo perché qui abbiamo due manici quindi ci andrebbero quattro moschettoni, invece ne ho presi due, però due li ho già, quindi userò gli altri, però dovete prenderne quattro. E infine la catena che io l'ho presa però ancora non so se userò questa catena o vediamo per fare la tracolla, poi infine ho preso questi due manici ma questi sono per me devo fare una borsa in rafia ed infine ho questa tavoletta vedete questa tavoletta fortissima, utilissima, poi vi farò vedere come funziona ed è una tavoletta per le mattonelle granny o comunque per anche altri lavori serve per stendere il lavoro a maglia, poi come ho detto vi farò vedere come farlo, questo sarà il primo video che vi farò. Bene questo è tutto, io spero di avervi fatto cosa gradite a condividere con voi il mio pacco, vi metterò il link sotto l'info box di tutto il materiale che avete visto qua, poi inizierò a fare le borse. Per ora è tutto, io vi saluto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video e mettete un like se vi è piaciuto. Con questo è tutto, io vi saluto e al prossimo video, ciao! 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 Ciao!